Andrea Raffa Revisore Buonasera. Applausi. Sogno o utopia? Utopia o sogno? Qual è la differenza? Domanda facile o difficile? La differenza è molto sottile e per comprenderla al meglio dobbiamo scomodare aspetti linguistici e filosofici. Utopia deriva dal greco e significa non luogo, nessun luogo. La filosofia, con un gioco di parole dallo stesso suono, ha costato il significato di buon luogo, luogo felice. Ecco allora che il significato di utopia del dizionario è un'illusione, un progetto, una speranza, irrealizzabili. E invece sogno? Anche sogno deriva dal greco e significa una fantasia, un'illusione, l'immaginazione di cose irrealizzabili. Dette così sembrano praticamente la stessa cosa. Ma allora perché si parla sempre di realizzare sogni e mai di rendere realtà utopie? Forse perché non sono proprio la stessa cosa. I sogni sono molto più vicini a noi delle utopie. Ai sogni tutti, in fondo in fondo, attribuiamo una chance di realizzazione. All'utopia invece no. Ma provate a pensare. Se un sogno realizzato ne attirasse un altro realizzato e se una serie di sogni realizzati portasse a rendere realtà un'utopia, magari per strade che non avevamo neppure immaginato. Io e Francesca abbiamo tanti sogni, grandi sogni. E ogni giorno lavoriamo per alzare sempre di più l'asticella e realizzarne sempre di più. In questa moda abbiamo scoperto che i sogni sono facilmente realizzabili. Ma sono le utopie quelle che cambiano la vita delle persone e cambiano il mondo. Ma adesso abbiamo parlato di sogni, utopie. Ma prima serve un'abilità fondamentale. La capacità di sognare. Quando siamo bambini è tutto semplice. Ci viene naturale. Non distinguiamo molto i sogni dalla realtà. Ma da adulti, invece? Da adulti, invece, quando è che noi adulti abbiamo smesso di sognare? Ve lo ricordate il momento preciso? Quel preciso istante nella vostra linea spazio-temporale in cui avete chiuso a chiave il cassetto. Quello dei sogni. Perché là fuori il mondo vero vi reclamava a gran voce e vi obbligava a inserirvi nei suoi perversi meccanismi preconfezionati. Difficile ricordarlo, vero? quel momento. Sono però molto sicuro, anzi sono certo, che vi ricordiate con estrema esattezza il periodo della vita successivo a quel momento. Il periodo della vita in cui siete diventati adulti. E sono pronto anche a scommettere che appena avete smesso di sognare tutto si è come rapidamente ingricito. però voi avete messo la testa a posto, avete trovato la vostra strada. Ognuno di voi ha cercato di trovare il suo posto nel mondo e di adattarsi. Non è così? Lo so benissimo che è così, perché ci sono passato anche io. Ma se ci riflettete bene qualcosa non torna. Sì, perché in passato forse anche voi avevate avuto dei campanelli di allarme. Ma prontamente li avete soffocati. Quasi come se fossero dei diavoli tentatori che stavano cercando di portarvi via dalla vostra retta strada. E così avete cominciato ad accettare il mondo per come vi si presentava. Anche se magari non vi piaceva affatto. E avete iniziato a pensare ma in fondo a chi importa dei miei sogni. Il mondo è sempre andato avanti benissimo anche senza di me. E alla fine vi siete messi da parte. Sapendo benissimo che da quella parte ne avreste trovati tanti come voi. Tutti fedeli allo stesso credo. Alla stessa convinzione. Meglio spegnersi insieme che brillare da soli. Studia perché devi lavorare. lavora perché devi pagare le tasse. Paga le tasse perché devi vivere bene. Forse sarebbe meglio dire sopravvivere. Viverà da sorridere magari. Ma questo non è nient'altro che il paradigma di vita che tutti quelli che si sono messi da parte hanno accettato. Già, sognare. Non c'è più tempo per sognare. Figuriamoci per credere in un'utopia. Ma credeteci voi nelle utopie. Lasciatemi stare. Lasciatemi al buio. I bambini dovrebbero essere contenti di andare a scuola. La sera, prima di andare a dormire, non dovrebbero vedere l'ora di tornare a scuola. Perché lì è il posto migliore dove possono essere. Dove possono crescere, migliorare, esprimersi al meglio e costruire il loro futuro di qualità. A scuola dovrebbe essere valorizzato il gioco libero. Perché tramite il gioco libero i bambini possono essere fantasiosi, creativi e usare l'arma più potente che hanno. Il compito di noi educatori è importantissimo. In ogni momento che abbiamo a disposizione con loro, i nostri dreamer, dobbiamo far innamorare del sapere e della conoscenza. Fin da piccoli poi dobbiamo lavorare sulle loro emozioni, sull'autostima, sulla fiducia, sul pensiero autonomo, critico. In questo modo potranno crescere persone nella loro interezza con tutte le potenzialità per essere realmente persone felici. Bello il discorso. E magari adesso sarete portati a pensare che l'educazione di qualità riguardi solo i bambini, i giovani, i ragazzi. Non è così. Leggete dietro di me. Si chiama Life Long Learning. Letteralmente significa l'apprendimento per tutta la vita. Cercherò di spiegarvelo in una maniera molto diretta e semplice. Sostanzialmente non importa chi siete, che cosa state studiando, che lavoro state facendo e neppure quanti soldi state guadagnando oggi. Perché l'unica cosa che conta è che prima o poi non basterà più. Arriverà un momento in cui sarete costretti. Costretti ad ampliare costantemente il vostro bagaglio personale del sapere. Costretti a rimettervi in gioco. E... Scusate, non ho spento il telefono. Mi è arrivata una notifica. Ciao Francesco. Il tuo sistema interno è obsoleto. Non sono tre mesi che non apri un libro? Aggiornati. Ovviamente vi sto prendendo in giro. Non vivrete mai un'esperienza di questo tipo. Perché non ci sarà mai niente e nessuno che vi dirà quando e come cambiare. Sarà semplicemente il mondo che vi schizzarà via davanti al naso alla velocità della luce ad obbligarvi a farlo. E quando ve ne accorgerete? Beh, potrebbe essere troppo tardi. Sapete perché? Perché il momento è qua. Ed è adesso il treno. Sta partendo ora. Vorrei farvi ragionare un secondo su tutte queste considerazioni. Vi chiedo un piccolo sforzo. So che l'ora non è delle migliori però. Vi chiedo di fare una riflessione tutti insieme. Vi chiedo di pensare a una persona. A una persona a cui tenete molto. L'unica condizione è che questa persona deve essere nel periodo più importante della sua vita. Quello della formazione obbligatoria. Vi lascio qualche secondo per pensarci. Ok. Magari non ci avete mai riflettuto su. Ma questa persona, all'interno degli edifici scolastici, per 5 ore al giorno, per settimane, per mesi, per anni, viene preparata ed educata per un mondo che non esiste più. Per un mondo che fa parte del passato. E con un metodo che fa parte del passato. Pensate a quanto tempo perso. A quanti sogni infranti. pensate al suo futuro. Io sono letteralmente terrorizzato da questo scenario. Sono assolutamente convinto che sia indispensabile rivoluzionare il mondo dell'education. E che bisogna farlo in fretta per cercare di recuperare, almeno in parte, tutto il tempo che abbiamo perso e che stiamo continuando a perdere. Però il mondo dei grandi, al mondo dei grandi non importa. Non sembrano nemmeno accorgersi di questo problema. Per fortuna che ci sono loro. Che ci sono i bambini. Sì, perché loro non hanno bisogno di spiegazioni. Loro lo sanno benissimo per istinto. Almeno finché non arriviamo noi adulti a distruggerglielo con l'istinto. che gioco e divertimento panno rima con felicità. La noia non è contemplata nel loro mondo. Pensate invece a noi adulti. Per noi adulti il gioco è al massimo un passatempo tra un impegno importante della vita e un altro. Il gioco non può essere formativo. Il gioco è inutile, non serve a nulla. Signore e signori, lasciatemelo dire. Noi adulti dovremmo letteralmente essere riprogrammati. Abbiamo l'assoluta necessità di tornare a sognare con la libertà mentale di un bambino. E per farlo c'è una sola e unica strada. Ridare al gioco e al divertimento. Un ruolo centrale nella nostra vita. Esattamente come fanno tutti i giorni dalla loro i bambini. Sì, perché forse il segreto è semplicemente tornare piccoli da grandi. Oppure diventare grandi da piccoli. Cosa significa questo? Sicuramente non significa togliere il gioco ai bambini. Ma significa che fin da piccoli si possono insegnare competenze complesse. Perché non esistono competenze da grandi e competenze da piccoli. Esistono competenze e basta. Il ruolo dei mentor dovrebbe essere quello di aiutare i bambini a scoprire le loro attitudini. Senza programmi, schemi preconfezionati. Ma scegliendo insieme, ogni giorno, proprio insieme ai bambini, cosa fare. È possibile, anche a 3-4 anni. È difficile, ma si può fare. In questo modo i bambini potranno conoscere, sperimentare, anche campi completamente diversi in contemporanea, grazie a giochi multidisciplinari. In questo modo cresceranno, cambieranno idea e preferenze mille volte. Però cresceranno anche senza l'inutile ansia delle verifiche, dello studio, ma con la voglia di conoscere come parte fondamentale della loro esistenza. E poi, quando cresceranno, dopo aver scoperto molti campi diversi, bisognerà concentrarsi sulla scelta, sulla capacità di scegliere. Questo non significa che devono completamente eliminare dalla loro vita tutto il non scelto. Ma significa che la scuola sta dando loro gli strumenti per concretizzare i sogni, per essere realmente felici e arrivare a raggiungere i propri obiettivi. In questo modo tutti arriveranno al diploma che avranno scoperto la loro passione. E poi avranno anche la giusta determinazione per cominciare il loro percorso da grandi, con una caratteristica in comune con tutti gli altri, il fatto di essere felici ogni giorno della propria vita. Sì, fai presto tu, Vale, a parlare di passione legata a felicità, a positività, ma forse non sai, o forse volontariamente ignori, che il concetto originario di passione, beh, c'entra proprio poco con la felicità e con la positività. Sì, perché in origine passione significava sofferenza. E ancora oggi troppe persone considerano il lavoro come un esercizio di vita obbligatorio, come una passione, nel senso proprio di sofferenza a cui non possono porre rimedio. Pochi, pochissimi, sono riusciti a trasformare in lavoro la loro passione. Qui sì, intesa come una naturale inclinazione verso qualcosa. verrebbe da chiedersi perché. Perché pochi sì e tanti no. Qualcuno parla di talento, qualcun'altro addirittura di genialità, altri ancora di tempismo, opportunità. Io personalmente non sono d'accordo. Io preferisco parlare di determinazione e impegno costanti. Perché dobbiamo metterci in testa che la passione non è un hobby. Una passione è un fuoco che arde dentro il nostro cuore. E oggi è possibile davvero trasformare una passione in un lavoro. Questo processo però chiaramente non è esente da complicazioni. Necessità di tempo, dedizione e tanti sacrifici. Ma soprattutto una passione per poter compiere questa straordinaria trasformazione. Ha bisogno di un individuo che sappia volare in alto sulle sue ali. E che abbia la capacità di sognare senza mai orsi limiti. E una volta raggiunta questa trasformazione, beh, lì bisognerà continuare ad alimentare quel fuoco che arde. e farlo diventare un incendio. E credere che sia semplicemente possibile non basta. Quello è solo il primo passo. Che cosa servirà allora, direte voi? Vi ricordate l'apprendimento continuo? Proprio quello. Potremmo sintetizzarlo con tre parole. Impara, disimpara, reimpara. È tutto qui. Chi non avrà questa dinamica nelle proprie corde potrà essere tranquillamente definito un moderno analfabeta. Quindi dovrebbe essere ormai chiaro a questo punto che studiare è e sarà per sempre un obbligo. E lo sarà per tutta la vita. Ma ricordatevi anche che farlo in maniera divertente è e sarà sempre una vostra scelta. È possibile. È davvero possibile salvare il mondo attraverso l'educazione. Perché l'educazione non è imparare fatti e formule, ma insegnare alle menti a pensare per costruirsi il futuro migliore possibile. Grazie. 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 Grazie.